L'Altino vince 3-0 come all'andata contro lo Iesi e supera senza affanni il primo turno dei playoff al termine di una gara senza storia, fatta eccezione per qualche scorcio della prima frazione. I parziali a 20-19-23 non dicono la verità di una partita dominata dalle rosso-blu che confermano la loro forza e la felicità del Presidente Papa. Sono state brave, terminavamo questa partita perché dopo il risultato dell'andata ogni partita è sempre storia a sé, quindi siamo stati bravi a mantenere i ritmi e a chiuderla subito 3-0. Il duo Lestini-Zingoni si impone nel set numero uno, poi in cattedra sale la Mastrilli, ma ancora più trascinatrice diventa Marica Longobardi che a fine gara totalizzerà 20 punti e percentuali di rilievo. In coda mister D'Amico si concede giustamente l'opportunità di impiegare alcune seconde linee come Olleia, Papa e Graziani e a tempo pieno Costantini, un lusso. E ora via al secondo turno play-off, terza fase. L'Altino Tenaglia se la vedrà con Limola, domenica 30 alle 17.30 per gara 1 in trasferta. Ritorno a Francavilla o sabato 5 o domenica 6 giugno.